Come le app stanno cambiando le nostre vacanze? Le applicazioni, gli smartphone e i tablet in generale stanno cambiando un po' la nostra vita quotidiana di tutti i giorni e come tale ce le portiamo anche in vacanza. Quindi quali applicazioni vengono più utilizzate poi quando gli italiani sono in vacanza? Beh sicuramente i navigatori satellitari che vanno a sostituire proprio i dispositivi che utilizzavamo una volta, quindi gli smartphone vanno a cannibalizzare altri device, stesso discorso per le macchine fotografiche o per i lettori mp3. Quindi dicevo le applicazioni più utilizzate in vacanza sono i navigatori ma sono anche applicazioni di social che danno informazioni ad esempio sul traffico o ad esempio sui distributori di benzina che consentono di risparmiare. Poi vengono utilizzate applicazioni che danno informazioni sul luogo in cui ci si trova, guide turistiche e simili. Quindi applicazioni social che consentono di avere informazioni sui ristoranti migliori dove si mangia. Poi ovviamente il whatsapp, facebook, instagram sono utilizzatissimi anche durante i nostri soggiorni, i nostri periodi di velligiatura. E nel quotidiano come e quanto le usiamo noi italiani? Le utilizziamo tantissimo, ci sono circa 30 milioni italiani che navigano in internet ai propri smartphone, ai propri tablet. abbiamo mediamente installato più di 30 applicazioni anche se poi quelle che utilizziamo tutti i giorni realmente sono solo 4 o 5. E utilizziamo gli smartphone per navigare in internet, utilizzare applicazioni davvero per una fascia di tempo durante la giornata molto molto elevata. Stiamo parlando di più di 75 minuti di navigazione al giorno dagli smartphone.